Stai fermo! Guarda che perdevi in mezzo! Ah voglio questo! Via! Guarda solo, sozio! Via! Guarda solo! Come dire, cos'è sta bene? Ma chi va più fuori da qua? Boom! Come volevo io! Questo è il goal! Boom! Vai lì! Pura tempo di musica! Pura tempo di musica! Ora sto anche dal tetto! Così poi vado qua e faccio il double touch alla zina! Ok! Che ghostit! Che ghostit! Stavo lasciando il pallone là! Palle la metto! Oh! A me non metto troppo solido! Non ci pare niente! Vai tu! Barriera gain! Si 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 si! Buono il jump di sotto! Io si! Perché lui ha pre-jumpato! Si ci arrivo! Guarda fake! Nooo! C'è l'anticiparlo! C'è l'altro che è già arrivato! Non riesco neanche a vamparlo! Che fastidio! C'è l'ho l'angolo! Yeeey! Sì, sei tranquillo! Non te lo voglio buttaglierlo! Non puoi fare niente! Che fai che fanno alla busta? Che fai che fai che fai che fai! E lo saltiamo subito! E lo saltiamo! Tiè! Che schifo di passaggio scusami! Andato bene! Andato bene! Andato bene! Andato bene! Purtroppo so così! E che ce le muovo! C'è uno v1! Ma lui lo sa! Ah non è uno v1 zi! E' per quel momento però! No! Pensavo fossi bloccato in regola! C'è Dio! C'è versi il centro! 2 open! Non ce la faccio mi sa! Bene! Si ma l'altra è un'altra zona! M'anticiperò sì! Ah no! Non c'è andato! Che so! Ehi! Non è l'open! Eh l'anticipa sicuro! Attivano avanti! Lau meccanico? Lau meccanico sì! Attento prendi tempo! Perfetto! Come? No! Mi devi spiegare sta cosa Lau! No! Mi devi spiegare sta cosa! Mi devi spiegare! 158 dal loro campo! Mi hai messo malissimo! Siii! Posso prenderlo? No! Non ce la faccio! Eh si però! Non ce la fa! Tu ce l'hai? Non ce la faccio più basta! Mid? Ahahahah! E' fuori! Oh! Pallo! T'ho aperta la porta! Uh! Ma che non è?! Sto baffato là! Ce l'hai tu! Ce l'hai tu! Ah no! E' open! Ok! No io mi hai letto che sono andato io! Ce l'hai l'altro! No! Non mi hai dato il reset! Non mi hai dato! Guarda! Questo non è un reset! Non è un reset! Deve essere... Ce l'hai dietro! E' quello davanti ma lontano! Mmm! Non dovrei andare! Che culo! Che culo! No! Che poi ho visto pure i video di gente su Instagram! Dai vaffa il culo! A post! A post! A zero! Lui non lo sa! Vado! E' fuori! E' a post! Non ti voglio bumpare! E' passata però torno! O non torno! Ha mincato! Ehi! L'open! Difficile! Poi la macchina ha fatto il rimbalzo! Uh uh uh! E' stato fortissimo! E' contro la mia religione aprire la scoreboard! Rimani là! Ok! Hai tutto il vantaggio del mondo! E' boom! Va bene! Mid! Ed! Bello! Che cazzo fai! Sto pezzo di me- C'è un po' debole! No no! Bombona! E' un po' difficile ma che dici è successo? Oh! Ha funzionato! Ha funzionato! Aia! A posto! C'è proprio niente! Vai di nuovo! A posto! 1v1! Mi ha senso che devi fare 1v1! Vabbè! Assaggia! Su! Su! Tutta tu! Tutta tua! Hai fake challenge da platino! Faccio il clear! Lui dov'è? Dov'è? E' sotto il pallone! Tutte e 4! Colpa tua! Ricordiamo quello che hai fatto 3 autogol! Ricordiamo quella! Era un autogol 1 perché non volevo! No no! E' uno che ti sto c***o! E' l'altro perché sono c***o! Ma uno! Levate! Levate tu! Ci sei di lato? Te lo posso leggero! Aia! Aia! Ehi! Comunque spazio! E' su! E' su! E' su! Aia! E' su! E' su! Sono giù! E' lo stesso! Guarda il busto! Non è bello! Vieni tu! Ma ne so io! Ma ne so io! Ma c***o! Anche a me sei bampare! L'allarme del motorino! Copri la porta! Porta la copri! Siii! Siii! E' questione di chimica! Chimica! Aia! Che succede? Quanto forte! Quanto alto! Quanto cosa! Dai questo lo massaghi! Questo è un omino open! Peccato! Ti tolgo il busto che te lo meriti! Ticcio in chiamata! Ah! Via! Oh mio Dio! E' spazio! E' spazio! E' spazio! E' spazio! E' spazio! Guardalo! Guarda che fa! Incredibile! E' ancora solo sono! E' ancora solo! Ma sul busto! Ma sul busto! Dove la parata? Ho fatto un bevito di breakdown! Breakdance! Sbagliato! Dove sei? Eh? Cosa? Eh! Che cazzo fa? Se sto fermo sono mai la paro! Sì! Secondo me si! No! Ma non mi senti neanche! Non c'è più dialogo in questa comunità! STAI FERMO! Sei fermo! Tua! Stai fermo! Tua! Manco mezzo seconda la pazza da quella! La prima affermazione! Via! Segno! Segno! Oh! Garrett! No! No! Manco l'open segna! Ma se c'è l'avversario in porta è un open! Problema! Non più problema! Problema! Quello mi lascio lo v2! Era uno v1! Guarda che parte di me! Vai! 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 Se non sei inni sei... Io non ce l'ho! C'hai tu! Non mi risponde! Non mi risponde! Non mi risponde! Non mi risponde! Non c'è bisogno di dire che ci sono per passarlo! Ma se te lo chiedo che dici! Finch! Finch! Open! Ma sono due! Sono un po'! Chi è? Oh oh! Vai! Se lo perdiamo! Vai! Voglio questo boost! Non ce l'ha mai! Non ce l'ha mai! Te lo bumpo! Ma c'è l'altro che mi piglia! Lo bumpo! Lo bumpo! Ti prego! Siiii! Me la pari tu? Ok no! Ma quanto mi puzza l'ascella! Ma che schifo! Ma che schifo!